e da un bocca non pubblico e non è perché sono fermo è perché sto preparando i disegni per una materia che devo dare a settembre anatomia e quindi sto preparando tutte le tavole che devono essere allegate a questa materia che è teorico pratica la parte pratica è la preparazione dei disegni che consistono nelle ossa del corpo umano e nei muscoli del corpo umano quindi oggi vi faccio vedere uno degli ossicini che sto preparando una delle tante tavole sono sempre degli esercizi fatti a matita e andiamo a farli facciamo tre proiezioni del femore e il femore perché non lo sapesse è l'osso più lungo del nostro corpo e ne prepariamo tre proiezioni tre viste diciamo una vista frontale una laterale e un retrostante grazie a tutti grazie a tutti diciamo che sommariamente questo è il lavoro che mi aspetta per questa estate per preparare questa materia questa è la parte pratica la materia anatomia e mi rimangono ancora quattro cinque tavole di ossa e poi devo fare delle tavole di della muscolatura tavole diciamo che passerò agosto su queste tavole e sui dipinti perché poi dovrò dare pure vettura appena inizio con i dipinti comincio a riprendere la pubblicazione dei video nel canale intanto vi auguro un buon ferragosto e niente alla prossima ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti